Sempre grazie al Presidente di essere qui nei momenti importanti per la nostra regione, quindi oggi si apre una grande, cioè Tigen, Ballabbio, tutta la sua struttura, ha sempre lavorato qui nazionalmente nel mondo, ma Napoli è stato un punto di riferimento, la Campania è stato un punto di riferimento, quindi apre qui a Pozzuoli una straordinaria location che era un'importante fabbrica, tra l'altro innovativa di avanguardia come era l'Olivetti e quindi è una bellissima giornata. La ricerca però, voglio dire, la Campania è la prima regione dopo la Lombardia, la Lombardia chiaramente è sempre stata un'eccellenza, in termini di PIL investito in ricerca, quindi noi siamo sopra la media nazionale, quindi siamo un'eccellenza, l'abbiamo fatto puntando sui laboratori pubblici privati, cioè mettendo insieme la parte migliore dell'innovazione della ricerca che viene dal sistema privato e dal sistema pubblico. Abbiamo fatto un gran lavoro e i risultati ci sono, quindi siamo orgogliosi anche di questa straordinaria presenza di questa mattina. Una giornata meravigliosa per la Campania, per Pozzuoli, per Napoli, perché oggi è una giornata importante che dimostra come in Italia ci siano tante eccellenze e certamente una di queste è qui nel Tige, nel centro di ricerca Teleton del professor Ballabio, un centro di ricerca basato sui risultati, sulla meritocrazia e sull'apertura a tanti ricercatori giovani, stranieri, italiani, italiani che sono in Italia e italiani che torneranno in Italia. Sì, per noi questa è una grande giornata, per noi ricercatori di Teleton, questa nuova sede ci consulterà di espanderci, di reclutare tanti ricercatori non solo dall'Italia ma dall'estero e questo credo che rafforzerà moltissimo la nostra lotta alle malattie genetiche e non dobbiamo dimenticarci che la nostra missione è quella di appunto sconfiggere queste malattie e cercare di far alleviare le sofferenze dei pazienti, questa è la nostra missione.